Oggi vi faccio vedere un nuovo esercizio per lavorare i round jump e alla fine sostenere le gambe e cercare di avere sempre i fianchi dritti, mi raccomando talloni in avanti. Conterò con voi di modo che il conteggio sia chiaro, perché ricordatevi che il conteggio è importantissimo. Allora proviamo insieme, dai! Preparazione 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6 e 7 e 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6 e 8 e 8. Capito? Avete visto? Il conteggio, ogni movimento su un conteggio è importante, vi aiuta tantissimo per la musicalità e fondamentale per la dinamica, quindi state attenti anche a questo aspetto. A presto, ciao! Grazie a tutti!